giochi sul nostro podcast il podcast ludico bentornati alla nuova puntata di giochi sul nostro podcast allora come è andata come ho visto che ormai questa è un po la settimana dopo del modena play o della modena play dipende come come si dice e quindi cosa avete fatto di bello avete provato avete acquistato quindi state ancora togliendo dalla borsa tutto il vostro bottino che di cui avete fatto 200 foto messe su facebook oppure invece avete passato tutto il tempo a provare giochi di quelli proprio super chiacchierati quelli super attesi ma allora visto che io non mi sono proprio mosso da casa ma abbiamo mandato un super team in missione con me stasera c'è luca ciglione ciao ciao a tutti ciao a tutti sono appena tornato da modena sono ancora un po stanco ma sono contento di essere qui per raccontarvi un po la fiera io sono stato ben tre giorni quindi ho visto un sacco di giochi e oltre a noi due c'è anche white wiston ciao a tutti ragazzi buonasera io invece sono tornato un po di giorni fa da modena perché ci ho fatto solo verdi ma devo dire giornata intensissima e stasera vi racconterò un po di belle cose bene 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 cominciamo dall'inizio quella domanda un po che ci si fa a tutti modena play è tornata alla grande un po pre pandemia secondo me sì secondo me è tornata alla grandissima io non avevo partecipato l'anno scorso quindi era tre anni che non mettevo piede piede al modena play e tre anni che non mettevo piede ad una fiera fatto salvo per l'ultimo lucca comics che però è stato talmente deludente che l'ho rimosso e quindi per me era di saliva tre anni fa devo dire che salvo le mascherine che se ne vedeva chiaramente tante persone portavano la mascherina anche se non era obbligatoria ecco fatto salvo le mascherine poi per il resto sembrava una play o un modena play insomma come volete dire in grandissima forma anzi pre pandemia se non addirittura già orientata al futuro e quindi in crescita ecco bene bene luca visto che tu hai poi avuto anche i dati diciamo il sentore su tutti e tre i giorni sì assolutamente devo dire che il giorno migliore alla fine quest'anno secondo me era domenica addirittura perché venerdì è stato il giorno dei gamer duri e puri come andrea quindi che hanno preso d'assalto i tavoli quelli più ciccioni no quindi c'erano grandi code non so per dire lo stand di ludus magno studios piuttosto che a provare a rec nova e vari german belli ciccioni e sabato c'era delirio totale da tutte le parti domenica invece alla fine tutti questi tavoli che venerdì erano pieni erano vuoti perché i gamer non ce n'erano più e quindi potevi addirittura andare senza far coda quindi è stata abbastanza strana come cosa e niente gente ce n'era parecchia gli editori hanno portato tanti tavoli demo e devo dire alcuni hanno fatto avevano anche degli stand pazzeschi poi abbiamo anche organizzato alcune cose molto carine con noi piuttosto che con altri content creator quindi sicuramente è stato perlomeno divertente da parte mia stancante anche perché faceva molto molto caldo e non essendoci era un inferno sopra alcuni sono sentiti male ad esempio anche barbara di tv games so che sta male e gli auguriamo niente di grave ho letto su facebook per no saputo che sta male quindi sì questo è stato un po un gran problema soprattutto per per la tensostruttura esterna dove veramente c'erano delle temperature improponibili mi viene da dire che secondo me volevano un po copiare la giochi con del 2019 ho sentito dire da molti ma loro sanno che non ci potranno mai battere perché noi addirittura avevamo messo degli splitter ad aria calda quindi era l'inferno poi era bella la giochi con c'era l'inferno ma nonostante fossimo praticamente quasi all'aperto perché era un sì una tensostruttura ma altissima quindi era veramente la roba io quella quella giochi con l'ultima che abbiamo organizzato io l'ho l'ho racchiusa nelle parole di spartaco albertarelli quando a un certo punto qualcuno gli ha chiesto ma non hai caldo e lui gli ha detto guarda ormai mi sono sciolto dentro perché effettivamente c'è un caldo incredibile io pensavo con le parole di dado critico che ha scritto il pezzo ho giocato sul sole il pezzo è molto bello anche esatto comunque a modera faceva caldo forse non così caldo come la giochi con però effettivamente devo dire l'unica nota negativa per per me è stato il caldo però io l'ho fatto alcun post su facebook abbastanza non polemico ma anzi positivo alla fine perché dopo dopo tre anni di cui dei quali almeno due direi c'erano eventi annullati restrizioni chiusi in casa pensieri di ogni tipo poter entrare in una fiera girare liberamente avere centinaia di tavoli migliaia di persone con cui giocare cioè nel senso era più la gioia che alla fine c'è il caldo che forse era anche riconducibile non non almeno non soltanto alle braccine corte degli organizzatori ma non lo so magari c'entra qualcosa anche normative anti covid per un discorso di aspirazione rimando nell'aria di arreazione e può essere che erano costretti a tenere tutto aperto e quindi accendere l'aria randizionata sarebbe stato inutile diciamo comunque al di là di tutto il pietra caldo diciamo che se la vogliono mantenere diciamo così a verso fine maggio devono comunque il prossimo anno prevedere il condizionamento altrimenti diventa cioè quest'anno magari non si aspettavano diciamo il prossimo anno non posso non aspettavano è vero è vero poi se puntano che famiglie magari con bambini diventa complicato a meno che non si torni a una data un pochino come quelle precedenti ovvero ad aprile che forse potrebbe essere un'idea una soluzione e poi viene da chiedersi ma perché non farla a febbraio quando fa proprio freddo e si sta benissimo che si sta tutto dentro si crea anche quella temperatura col clima di clima stalla ce lo chiedevamo anche alla anche la giochi con come ma non l'abbiamo fatta a febbraio infatti vorrei proporla a febbraio alla giochi con vabbè ci potrebbe fare e niente comunque sì a parte a parte quello poi va bene cosa più male è stata comunque incontrare la gente incontrare gli editori nel mio caso fare la sfilata di protesta ma ecco ecco a proposito cioè tu hai già lanciato ma perché comunque ti abbiamo visto dare questo cartello giustizia per luca ciglione un po a tutti hai coinvolto diversi colleghi in qualche modo ma non ci hai aggiornato sull'andamento del tuo portafoglio no perché in realtà non ho comprato praticamente niente ho comprato l'ultimo giorno due libri game uno per mio figlio in realtà è un libro game allo stand di dracomaca quello lake dracoon quello dei pirati e poi ho comprato allo stand di dreamlords con ribande che invece è un gioco di ruolo sempre per bambini e poi non ho preso altro perché il resto mi hanno tutto regalato oppure mi hanno detto che me lo spediranno insomma quindi non ho speso praticamente niente ma ho entrato a casa con un bel bottino di roba ecco anzi tu ho anche portato della roba a te sì certo è vero è vero su questo devo dire che effettivamente mi hai fatto anche il servizio di pony express in qualche modo e beh oh grazie grazie ancora ti ringrazio ancora per aver impulsato sì esatto il kit sostitutivo per spirit island quello è molto apprezzato extra parentesi ho appena finito di imbustare le carte nuove togliendo quelle vecchie perché hanno dato proprio tutto ci hanno dato le plance le carte quindi hanno fatto proprio un regolamento sì 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 assolutamente quando c'è da dirlo c'è da dirlo cioè hanno preso nota del delle critiche e effettivamente hanno fatto un bel lavoro bene e chiudiamo qui quindi la parentesi del del kit di spirit island ma allora domanda proprio a bruciapelo qual è stato il gioco che vi è piaciuto di più tra quelli che avete visto barra provato barra acquistato ma io andrei anzi tu parto io 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 ce n'ho due uno nella destra e uno nella sinistra e sono sono due perché uno era acquistabile uno no uno era uscito uno no quindi allora il primo gioco approvato la mattina è stato messina 1347 l'ultimo gioco di Vladimir Sushi che è l'autore di Underwater Cities Pulsar Praga Caputmundi tanto per citare i più famosi gli ultimi e l'autore che solitamente fa dei bei giochi e devo dire che questo probabilmente ha fatto breccia nel mio cuore germanico immediatamente e tanto da tirare fuori il portafoglio e fare un insta buy e secondo me è il miglior gioco di sushi quindi se per caso avete gradito Pulsar se per caso avete gradito Underwater Cities Praga Caputmundi questo secondo me è il miglior caputregni mi dicono dalla regia come caputregni caputregni poteva essere Caputmundi però no eh sì poteva mi piaceva suonava suonava bene caputregni e questo secondo me è il migliore e senza entrare tanto in tecnicismi però parliamo comunque di un gioco abbastanza corposo non troppo fluido nello svolgimento piazzamento lavoratori che poi si spostano per Messina e fanno delle azioni ci sono i topi meeple bellissimi topi della peste meeple che chi li prende sono penalità a fine partita anche questo vabbè è una nota di colore è molto carino anche diciamo abbastanza ambientato perché un pochettino non si ragiona di cubetti e di risorse colorate ma ci si cala un pochino più nella parte è stato una prova al magnifico e niente colpo di fulmine bene e l'altro l'altro invece era diciamo il grande la grande anteprima che mi aspettava a modena che è anunnaki dawn of the gods che tra l'altro è ancora su kickstarter e rimarrà fino a domani fino a lunedì fino a domani esatto e quindi siete ancora in tempo a fare l'ultimo l'ultimo rilancio e è un gioco 4x di danilo sabbia e simone luciani è un 4x con la x dell'explore 4x per chi non lo sapesse è explore expand explore exterminate cioè esplora conquista territori sfrutta li in termini di risorse e stermina i nemici l'explore è un po' più debole rispetto alle altre 3x e per questo e altri motivi mi ha ricordato tantissimo site e con site diciamo condivide il genere e condivide la lunghezza la durata di gioco è molto contenuta noi in due ore siamo riusciti a fare praticamente quasi un'intera partita compresa spiegazione in fiera quindi in quattro che è il numero massimo di giocatori nella versione base e quindi molto è abbastanza breve per essere un 4x è molto fluido ed è poi come tutti i 4x c'è tanta interazione molta più di site e spendo giusto due parole sul cuore del gioco che è la stella delle azioni che è una stella con vertici e intersezioni dove si muove un pedone e si selezionano le azioni questo apparentemente può sembrare un sistema complesso e di fatto dona complessità al gioco quindi piacerà sicuramente agli amanti dei giochi german e euro game però allo stesso tempo è quel meccanismo che garantisce una fluidità pazzesca perché perché vi obbliga a pianificare due tre mosse in fila quindi sostanzialmente quando tocca a voi avrete sempre già la mossa pronta quindi tocca a me boom faccio la mossa passo tocca a te e via e via così ed è per questo che si gioca in maniera molto fluida tra l'altro c'è un fine gioco a race game quindi c'è a un certo punto se uno supera una certa condizione mette fine al gioco mi è piaciuto tantissimo lo promuovo sotto ogni punto di vista quindi questi sono stati i miei due giochi veramente top della fiera ok luca luca allora io ne ho provati veramente tanti e me ne sono piaciuti diversi quindi ne nominerò tre che sono di completamente di diverso peso e tipologia allora forse il gioco che mi è piaciuto di più è escape from new york è un bel american che porterà su kickstar trap and dragon in autunno inverno prossimo e è un semi collaborativo e nel nostro caso abbiamo giocato anche con una delle espansioni che sarà diciamo farà parte solo della campagna di kickstarter nella quale uno dei giocatori fa il new york quindi fa il cattivo sostanzialmente e quindi si gioca in quattro e in questo caso quattro più uno perché appunto c'era un giocatore il motore del gioco era fatto da un giocatore non dalle carte come della versione base è un semi collaborativo perché ovviamente bisogna riuscire a scappare da new york e lo si può fare tutti insieme oppure si ci può mettere d'accordo magari solo con alcuni giocatori oppure ci sono poi degli obiettivi personali un po' alla nemesis se vogliamo quindi tensione al tavolo appunto quindi è sempre alta per questo motivo bisogna tenere d'occhio cosa fanno gli altri la particolarità è che l'obiettivo personale degli altri non è sbloccato fin da subito cioè è conosciuto fin da subito ma viene sbloccato solo dopo che il diciamo il tuo omino il tuo player raggiungi un certo livello che questo livello si sblocca uccidendo un certo numero di mostri e raccogliendo un certo numero di oggetti quindi se ti fai proprio sempre i fatti tuoi e non vai nel cuore del gioco non riuscirai a sbloccare il tuo obiettivo singolo quindi questo è fatto per forzarti comunque iniziamo la prima parte del gioco collaborare con gli altri molti in nemesis mi dicono che hanno avuto che è un giocone però che hanno avuto questa sensazione che alla fine te dall'inizio sai che vuoi fare il tuo obiettivo e ti fai i fatti tuoi fin da subito volendo mentre qui è già mai impossibile perché se non collabori all'inizio non riesci a sbloccare questo obiettivo personale quindi non riesci è anche vero che in nemesis non vinci mai se non collabori un minimo ma è basato sul film? è basato sul film è più leggero Luca di nemesis? è più leggero perché è più corto noi l'abbiamo finito in 1 ore 45 minuti con tanto di spiegazione noi abbiamo in mano ogni personaggio ha delle carte ed è asimmetrico quindi ognuna delle carte particolari io per esempio avevo la ragazza che aveva come poteri speciali poter sparare tantissimo uccidere tanti nemici poi c'è il tassista poi c'è il protagonista che adesso non mi ricordo come si chiama che lui aveva la capacità appunto di muoversi e picchiare fortissimo insomma era ben ambientato ma la cosa particolare ci sono queste carte e tu ne giochi due ogni turno e non le puoi recuperare però a meno che non fai passare il tempo e diciamo New York vince se finisce diciamo il mazzo di carte del tempo e a sua volta New York cosa fa quando ti colpisce ti fa scartare delle carte quindi cioè tu non perdi vita ma devi scartare le tue carte quindi a un certo punto New York ti colpisce perdi le carte perché i nemici ti stanno colpendo e sei costretto a pescare e il tempo passa il tempo passa sempre più veloce a man mano che vieni colpito oppure puoi decidere che vuoi fare subito un'azione anche se tante carte in mano su quelle carte che avevi appena giocato buono di nuovo passa il tempo e vai avanti così e l'ho trovata una cosa interessante perché comunque così non hai mai la paura di essere eliminato che può capitare giusto magari anche in Nemesis però devi veramente cercare di ottimizzare al massimo sia l'esplorazione sia l'arrivare alla missione noi abbiamo vinto in maniera collaborativa con ancora tre carte ma siamo stati fortunati perché abbiamo trovato subito il presidente quindi secondo me è anche come difficoltà ben tarato quindi questo era Escape from New York e io gli darei veramente un occhio perché mi ha convinto parecchio poi adesso scendiamo invece su pesi decisamente più leggeri e di Mancaramaro mi è piaciuto Get On Board che è un gioco dove dobbiamo sostanzialmente creare la miglior tratta di autobus sai che quando tu l'hai messo su Telegram la prima cosa così a vederlo mi ha ricordato un po' di Get To Ride Sni perché sì perché mi si mettono questi pezzettini di autobus in realtà poi non ci sono tratte da fare eccetera diciamo che sulla plancia di io ho giocato a New York ci sono due planche New York per due o tre giocatori Londra per quattro o cinque e sostanzialmente hai appunto si girano dei biglietti e ogni biglietto corrisponde a un movimento da fare per esempio non so a un certo biglietto dovrai mettere due pezzi dritti oppure un pezzo che fa una curva oppure fare tre pezzi che formano una U e questi sono asimmetrici cioè ogni personaggio ha una plancia di gioco con diversi diversi appunto curve eccetera quindi magari io con l'uno dovrò fare due dritti te invece due curve poi cosa succede quando metti i tuoi pezzettini di tratta di autobus incontrerai o delle persone oppure degli edifici e questi vanno in combo per esempio se carichi degli studenti gli studenti dovranno andare nelle scuole quindi farai tanti punti quanti riuscirai in quel caso mi sembrerà che moltiplichi il numero di studenti per il numero delle scuole che incontra la tua tratta dell'autobus oppure i turisti li dovrai portare ai monumenti certo però i turisti per esempio non moltiplicano ma a quanti ne hai una volta che arrivi ad un monumento loro scendono e fai i punti immediatamente e lo stesso gli uomini d'affari devi caricarli e portarli nelle zone degli affari tipo Wall Street e un piccolo pick up and deliver sì però vi segni tutto diciamo come fosse un roll and write su un foglietto e poi hai in più degli obiettivi quindi un obiettivo personale e degli obiettivi comuni e inoltre devi stare attento a non andare nel traffico quindi a cercare di non incoraggiare le tratte degli altri eccetera l'ho trovato veramente molto carino poi in realtà ci ho giocato in due a Modena mi è piaciuto tantissimo ci ho rigiocato poi a casa in tre perché ne ho comprato uno per una mia collega e in tre forse è un po' intasata la mappa quindi ho avuto l'impressione che giri meglio in due o quattro il terzo gioco invece che ho giocato in anteprima è Foxy di Get On Games che uscirà a breve c'era solo una coppia di anteprima ed è un gioco di memoria quasi per bambini oserei dire nel quale si girano venti carte in ogni carta ci sono disegnati uno o più animali e tu ogni volta che esce una carta devi segnare il numero di quegli animali che vedi che sono usciti fino a quel momento quindi non lo so prima carta esce una giraffa e una zebra devi scrivere due la seconda carta esce un gatto e una zebra dovrai scrivere tre perché un gatto che c'è adesso più la zebra e quella che c'era prima e così avanti gli animali sono di dieci tipi e quindi devi girare queste venti carte e la peculiarità è che se tu scrivi un numero più basso farai comunque quel punteggio se scrivi un numero più alto non farai nessun punto quindi c'è un certo punto quando non capirai più niente non ti capirai più niente dovrai pensare se andare a ribasso oppure accontentarti oppure anche perché poi immagino le carte diciamo precedenti vengono coperte sì sì certo si vede solo sempre l'ultima si vede sempre solo l'ultima e poi ovviamente quindi poi dopo un po' dici boh ma che cavolo c'era uscito quello con l'altro boh vabbè metto cinque esatto ovviamente al tavolo si inizia a ridere poi si inizia a far casino non si capisce più niente e poi puoi giocarlo anche ne abbiamo fatto una mano che le girava piano una che le girava velocissime e beh capisci bene che quando le giri velocissime non si capisce più niente ciao esatto tra l'altro è un artwork stupendo disegnato da Stefano Trattarotti e insomma ci giocherò volentieri anche con i bambini appena esce quindi vi ho fatto tre titoli completamente diversi tra loro bene hanno abbracciato tutto ecco bene bene nel frattempo si è unito a noi anche Davide Simarillon ciao ciao a tutti allora visto che dicevo agli altri nostri amici che finalmente siamo tornati a una condizione quasi di pre-pandemia per quello che riguarda poi Modena no e allora poi ho chiesto a loro quali sono stati i giochi che hanno preferito durante questa fiera e quindi c'era Andrea che ha detto Messina e Annunaki Luca invece ha detto Get On Board Foxy e Fuga Da New York l'ho italianizzato riprendendo il titolo del film invece i tuoi quindi devo dirli proprio così al brucio vabbè si si al bruciapelo proprio senza alcun dubbio il mio preferito di tutta la fiera è un gioco che non c'è in commercio fino alla prossima Essen era Horrible c'era la copia di pre-produzione ed era Evergreen gioco che ricordava molto fotosintesis d'altronde l'autore è lo stesso aveva il concetto molto simile della della luce quindi c'è questo sole che gira e devono crescere gli alberi e anche qua ci sono tre stadi quindi c'è la radice l'alberello piccolo e l'alberello grande e ovviamente fanno ombra dietro le differenze più grosse rispetto al cugino di primo grado diciamo così sono che non si gioca su una plancia comune ma si gioca sulla propria plancia e poi ci sono diversi modificatori di punteggio ovvero in base a come la plancia è divisa in cinque macro regioni e ci sono dei moltiplicatori degli alberi alti due che vengono costruiti in ogni macro regione quindi in una partita potrebbe essere non so poi magari avranno dei nomi fighi adesso c'era costruire sull'azzurro costruire sull'arancione ok è astrattissimo eh come astratte fotosintesi diciamo poi ci sono dei laghetti che ti aiutano a far crescere più velocemente il tuo i tuoi alberi dei cespugli perché è premiante fare la foresta unita più grande e ci sono cinque round ogni round ha dei turni sempre minori a scendere e alla fine di ogni round vengono contati i punti non vi devono piacere i giochi con pochi punti perché io ho fatto la prima partita e ho fatto 171 punti qualcosa del genere quindi giusto per dare un'idea però ho anche detto a Heimer che se vendeva la copia di preproduzione io me la prendevo già subito lì purché c'aveva qualche sbavatura sulla plancia ancora qualche cosina da sistemare io me la prendevo quindi facile facile quello che mi è piaciuto di più ok poi quindi solo quello nomini quello sicuro top posso nominare il gioco che ho provato veramente per caso prima di andare via dalla fiera che è Age of Comics sì ok è un gioco anche questo che uscirà il kickstarter probabilmente a settembre è stato uno dei giochi della fiera forse questo se ne è sentito parlare tanto sì aveva questa grafica secondo me riuscitissima perché hanno preso una bravissima disegnatrice che ha ricreato le copertine dei fumetti degli anni 60 e quello che mi è piaciuto di sto gioco sostanzialmente piazzamento lavoratori molto semplice però quello che mi è piaciuto di questo gioco è che ogni azione era coerente cioè tipo se tu prendi un bravo disegnatore un bravo storyboard che ti sta facendo la storia è una bella copertina hai più fans rispetto a uno che ne prende uno meno bravo a disegnare poi puoi girare per la città facendo pubblicità al tuo fumetto e andandoti a prendere i fans era tutto molto intuitivo cioè le azioni erano rispecchiavano quello che può succedere ambientato quindi dai ben ambientato per essere un german super ambientato e poi aveva questa grafica che colpiva l'occhio cioè infatti parlando di fumetti quindi è giusto che abbia la sua importanza no? sì assolutamente poi aveva adesso io non so come sarà la grafica definitiva sicuramente non era quella definitiva e lì mi hanno anche detto che quando andanno su kickstarter auspicano di fare degli stretch goal con fumetti disegnati da autori già formati top disegnatori però devo dire che anche se la loro non era un top disegnatore ha accolto bene cioè ha ricreato molto bene l'atmosfera comics anni 60 cioè ok e oltretutto questo è un progetto italiano anche questo tutto italiano sì tutto italiano no ma adesso li seguirò con attenzione quindi vediamo poi a settembre tra le altre cose loro sono anche già su tabletopia se qualcuno vuole provare ok bene quindi ora diciamo diciamo la cosa più bella che è successa comunque per me a play è stata la partita hero quest insieme a davide e i ragazzi dei 4 più vi ho invidiati ragazzi ma devo dire che sai diciamo sempre che hero quest è superato eccetera eccetera vero tutto vero però giocarlo lì dentro la grotta perché lo stand di di asbro era una roba spettacolare cioè proprio c'era la grotta entravi dentro so davide era una roba lo stand più bello della fiera mani basse proprio cioè era da una parte c'era la casa di betrayed off on the hill e dall'altra appunto questa grotta per hero quest e giocare lì appunto con questi coi ragazzi con il master che era master of master 77 cioè che era un super esperto eccetera eccetera che voleva farci morire male diciamo la verità cioè siamo proprio tornati i bambini cioè ci siamo veramente esaltati tantissimo cioè quindi alla fine si è fatto nostalgia però comunque è un gioco che preso così è comunque sempre divertente io mi so anch'io mi sono divertito un sacco poi coi ragazzi di al 4 più come si dice non lo so giusto loro anche simpatici ci siamo divertiti è stata proprio bella l'atmosfera che c'era lì si va bene l'atmosfera siamo divertiti ma chi ha vinto poi ha vinto loro ragazzi no la sfida ai voti la sfida ai voti abbiamo 15 a 13 non ci avete spinto abbastanza 15 a 13 contando che loro erano in 10 però ecco moralmente abbiamo vinto noi era chiaro partiva la polemica era ovvio ok quindi il stand più bello è quello di Hasbro quindi il stand più bello secondo me erano quello di Hasbro e di Clementoni che per assurdo sono stati messi fuori nella tesostruttura e invece dentro tra i stand normali vabbè quello di Get Home Games era sempre molto molto bello si vedeva che era poco orientata alla vendita e molta le demo e poi c'era qualche altro stand un po' più più carino anche dei piccoli editori soprattutto e vabbè i grandi avevano tantissimo spazio demo però erano stand tradizionali direi non c'era niente di particolare però Luca mi sono sembrati tutti sul pezzo rispetto a Luca Luca l'anno scorso erano tutti contabili perché no io non ero sicuro magari pensavo di trovare che ne so di nuovo qualche editore che era lì solo con lo shop senza anche Cranio anche Cranio aveva una stand bella aveva fatto visto che è uscito appunto Escape from Your House che è l'escape che ho fatto la recensione da poco che è molto carina per le famiglie eccetera eccetera ne hanno create due tu entravi dovevi proprio riuscire ad uscire giocando al gioco e anche quella era una cosa molto carina che si sono inventati ma secondo me è un po' tutti dai è meglio è molto meglio ai claustrofobici comunque sì poi faceva fresco in quelle stanze sicuro proprio sicuro sicuro lo sapete che nella tensostruttura sabato io ero il mago e io ero probabilmente il mago ha perso perché sei sciolto cioè poi ho saputo che comunque sono svenute due persone ho saputo dal caldo della tensostruttura magari facciamo una bella play non fatelo più a maggio anticipatelo leggermente non è già parlato Davide tu arrivi dopo e poi abbiamo già votato e noi sparava di febbraio esatto sparava di febbraio ecco se non fa Modena lo facciamo noi con la con la con esatto con la giochi con ragazzi posso citare un non solo grandi che mi ha strabiliato ad ammatti che ho preso a play vedrete poi la recensione sul blog a breve in realtà è una localizzazione di un gioco uscito un po' di anni fa che si chiama Karak portato in Italia da Creativamente e l'ultima partita l'ho fatta un'ora fa con mio figlio e mia moglie tra l'altro parentesi ovviamente mia moglie cioè ovviamente in realtà non gioca mai che una volta gioca ci straccia subito io ero io ero tipo il guerriero mio figlio era il mago lei prende così l'indovino e ci straccia proprio una roba pazzesca vabbè ma detto questo mi ha stupito tantissimo io non l'avevo provato in Fiera Lalla mi sono portato a casa la scatola e ma è bellissimo cioè è veramente l'ho trovato l'anello di congiunzione perfetto tra i giochi per bambini e i giochi dei grandi perché questo è un gioco da grandi reso per i bambini cioè un mini dungeon mini è un piccolo dungeon crawler con regole semplificate ma non troppo per esempio ci sono sei personaggi ogni personaggio ha comunque due poteri speciali ci sono un sacco di nemici ogni nemico se lo batti ti può dare armi incantesimi chiavi tesori è veramente ricco e divertentissimo sia per un grande ovviamente entro certi limiti ma da giocare con i figli mio figlio compie sei anni a settembre sulla scatola c'è scritto sette più ma il set secondo me è riconducibile più a dover fare le somme con i dadi con due dadi quindi con grandi cose che altro perché poi il resto non c'è da leggere non c'è da fare ragionamenti complessi e lui si sta divertendo come un matto cioè forse il gioco che sta che gli sta piacendo di più in assoluto quindi ecco mi ha stupito tantissimo e brava creativamente ad averlo portato in Italia bene 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 ok abbiamo anche delle delusioni infatti volevo proprio arrivare anche lì i flop in fiera sì perché alla fin fine avete e poi i flop i flop per noi per noi per noi certo la nostra ovvio magari eravate partiti a bomba con l'hype a mille aspettative altissime e poi invece siete arrivati lì e avete detto ah ok ma è questo ok e aggiungo ancora flop ok ma poi consideriamo sempre che provare un gioco in fiera non è tanto spettivo certo no no ma poi flop nel senso fino a un certo punto perché il mio per esempio è un successo commerciale clamoroso quindi flop far di balle insomma alla fine qual è? è il mio cioè è un flop con tanti se e ma però è Oath Chronicles of Empire and Exiles tra l'altro che è stato annunciato in italiano da MS Edizioni l'ultimo gioco di Call Whirl per intendersi l'autore di Vast di Root e di altri giochi ma diciamo riprende un po' il filone di Vast e Root asimmetrico che narra un po' di un mondo fantastico illustrato da Kyle Ferry che secondo me è un illustratore bravissimo e con queste partite dove ognuno ha in persona una fazione e dico perché mi ha un po' deluso avevo un hype pazzesco in realtà la prova in fiera per questo tipo di giochi non è assolutamente l'ideale c'è un gioco asimmetrico comunque complesso non è il suo però allo stesso tempo quello che non ho visto è elementi di originalità un po' genialità che invece normalmente contraddistinguono quest'autore cioè un autore un po' pioniere no? ripeto ora ho sicuramente sbagliato abbiamo fatto un po' di turni allo stand del magnifico non è stato forse spiegato al top mettiamola così mi piacerebbe riprovarlo ma quando ecco pensavo a Hot era nella mia wishlist ora è uscito anche perché poi è fuori anche perché poi è un gioco che costa 130 euro mi sembra in italiano quindi cioè capito se non ti convince tanto magari non li spendi 130 euro questa è stata la mia delusione più cosciente più che altro perché avevo hype e un altro gioco l'ho uscito perché invece abbiamo opinioni discordanti con Davide è stato One Small Step che è un gioco ambientato nella corsa all'allunaggio sostanzialmente Stati Uniti Russia da 2 a 4 giocatori però si gioca prevalentemente in due perché in più di due sostanzialmente si gioca a squadra quindi ha tirato per i capelli e è un gestionale gestione risorse si si giocano carte e si cerca di influenzare i media e procedere diciamo nella corsa allo spazio perché non mi è piaciuto mi è piaciuta cioè l'ambientazione mi è piaciuta mi piacciono tantissimo i giochi che hanno come ambientazione lo spazio o magari anche spazio più guerra fredda mi sembra un binomio pazzesco hai detto Twilight Struggle praticamente esatto no questo è più spazio che guerra fredda Twilight Struggle è più guerra fredda che spazio però ci sono tutti e due gli elementi però ecco io sarà che quando mi siedo e sento profumo di euro ho bisogno di un certo grado di controllo e questo gioco il controllo non ce l'ha perché si tirano i dadi per avere risorse e sono nove le risorse sono tante quindi se non ti capita quella che volevi storci il naso si pescano carte quando si pescano carte c'è sempre un po' di alea ci sono delle azioni che mettono delle penalità agli avversari coperte che si vanno a scoprire solo al momento cruciale quando magari scopri dici no non riesco a fare quello che volevo fare perché questa penalità mi dà un malus ma non lo potevi sapere prima comunque non era automatico saperlo prima insomma mi ha dato un senso di scarso controllo che in questo tipo di giochi a me personalmente non piace ecco quindi invece allora a questo punto Davide tu ribatti dicendo perché invece a te non è dispiaciuto se vuoi allora vabbè io ci ho giocato ci ho fatto solo due turni quindi è difficile anche valutarlo così al brucio sicuramente a me i giochi invece con un po' di alea anche se sono german non dispiacciono come a me i giochi non mi dispiacciono i giochi stretti quindi il fatto di avere nove risorse bene o male ti sistemi tutto sicuramente l'ambientazione è molto ben fatta anche qua secondo me assolutamente il 2-4 è roba illeggibile perché è un gioco da due punte basta solo che 55 euro mi sembra costasse sì ma come dire tu hai il struggle come lo giochiamo lo giochiamo a squadre due fanni russi e due gli americani cioè ma no ma no e quindi non aveva nessun senso solo che magari giustificare i 55 euro per un gioco da due allora mi invento sta cosa di separare due meeple che sono in un dipartimento e due meeple che sono in un altro ma poi basta finisce lì allora qualsiasi gioco posso spaccare i meeple e assognargli delle aree e diventano anche da 40 cioè non quello mi mi ha fatto storcere il naso questo 2-4 poi boh appunto come con Andrea diceva lui ha bisogno di tanto controllo invece a me un po' di tiro del dado la carta che magari ti stai preparando una missione devi prendere la missione e poi prendere quelle comuni o quelle personali te la stai preparando in un modo e non c'è modo che ti arrivino quelle risorse a me non fastidia però posso capire che non è un gioco che piaccia a tutti diciamo che mi piacerebbe allora ho detto prima evergreen io glielo ho detto e te lo pago anche se mi dai la copia di produzione age of comics probabilmente lo finanzierò su kickstarter one more step neanche ho pensato di comprarlo perché non è che non è che mi abbia proprio convinto però non è nemmeno il gioco d'illusione qual è il tuo gioco d'illusione il mio gioco d'illusione adesso mi uccideranno però è Ark Nova perché perché secondo me quando fai un prodotto di quel genere non puoi toppare delle cose così clamorose io ho avuto per due turni le carte in mano sei carte in mano ingiocabili secondo me è bello perché è ambientato benissimo anche questo si sente per essere un German si sente però cioè ragazzi io avevo sei carte e cinque carte ingiocabili e una giocabile ma non mi aiutava in niente quando sarebbe bastato magari dire fare dei mazzi dicendo questo è il mazzo di carte del primo anno dello zoo questo è il secondo anno dello zoo e questo è il terzo anno dello zoo bastava quello e così ti entravano le carte giuste secondo me mi ha lasciato un po' di amaro in bocca perché forse sono io che divento sempre più esigente no più di altro è vedere anche che tutto il resto del mondo praticamente sta approvando applaudendo a questo gioco e non è che magari adesso avviene il dubbio a me perché che magari è stato spiegato male non vi ha detto che in realtà le carte erano divise cioè non lo so chiedo perché oltretutto ho visto anche anche io ho giocato e ho avuto queste impressioni e tutti quelli che ho letto anche poi sono andato anche un po' a leggere in giro su facebook sui blog insomma perché comunque è già il tredicesimo su BGG esatto è quella che mi fa strano sulla fiducia perché e allora quello che sembra quasi che questo qua sia stato fatto un gioco solo per determinate persone no cioè se tu non ti piace sei scemo cioè no non è così questo qui è un gioco che è tematizzato bene che ha delle idee che sono carine perché per esempio per giocare le carte tu hai cinque azioni e queste azioni ti shiftano quindi se riesci a non farle le fai aumentare di livello e quindi quando le fai sono sempre più forti mentre se le fai non so due volte di seguito e la seconda volta sono molto deboli no ok quindi questo concetto i BGG sono tante cose quindi c'è gli animali devi fare i recinti devi comunque fare le azioni diciamo naturali hai un piccolo piazzamento lavoratori per andare a prendere determinate cose cioè è carino però ci sono obiettivamente dei problemi che sembra quasi che le hanno visti ma hanno detto vabbè facciamolo così solo per farlo diventare un German proprio pesante perché quando mi dicono vabbè dura quattro ore vabbè è normale come un German no cioè non è normale un gioco che se tu lo facevi secondo me un po' più affinato lo potevi far durare due ore e invece dura quattro cioè per me è un problema benché il turno sia velocissimo perché il turno è un'azione quindi c'è quasi impossibile fermarsi quindi risulta fluido però noi abbiamo fatto un'ora di gioco non so quanti turni abbiamo fatto 30 turni e uno dei tracciati non l'avevamo neanche mosso nell'altro l'avevamo andati avanti di pochissimo Davide non aveva le carte cioè io mi stavo quasi annoiando perché continuavo a pescare della roba che mi sarebbe servita quasi a fine partita poi gli abbiamo chiesto sì perché per fare azioni più forti dovete sbloccare questi allora ok la mia prima parte di partita è andare a sbloccare cioè un tipo motore di gioco di sbloccare cioè quello che devi fare è cercare di andare a sbloccarti le carte per farli diventare più forti è l'unica cosa che puoi fare perché se al troll rimani troppo lento un gioco dove c'ho 40 felte appunto poi diventa monostrategico sì allora che strategia ho se devo per forza fare quello cioè se per riuscire a giocarlo bene l'unica cosa che devo fare è andare a sbloccare le carte potenziate perché altrimenti vado troppo piano cioè cosa vuol dire allora vuol dire che inizio è la mia prima ora vado a fare per sbloccare le carte se è davvero così cioè io ho sentito polemiche molto più sterili nel senso ci ricordiamo tutti il problema della monostrategia in Falkin ci ricordiamo il problema che ne sono di pochi acri di neve che erano tutte eccezioni cioè erano cose veramente difficili da andare a creare a meno che non lo sapevi ma allora con l'unico discorso eppure ci hanno tirato su delle campagne di quasi odio per questi errori che ci sono no cioè se qua invece in questo gioco ci sono questi queste sviste non dico volute ma quasi sembra quasi sembra quasi che a un certo punto non sia stato fatto un ultimo lavoro di raffinamento che secondo me ad averlo fatto sarebbe stato veramente un gioco della madonna invece così è un gioco che onestamente io non giocherei non giocherei perché non ho voglia di perdere un'ora per iniziare a giocare poi poi le obiezioni è vabbè ma quell'ora te ti prepari il motore perché dopo così allora siamo già ancora peggio perché vuol dire che se non gioco bene la prima ora la seconda posso anche non giocare certo se posso dire una cosa io non l'ho provato ok però devo dire secondo me la durata di per sé non è detto sia un difetto cioè un gioco può anche durare tanto come Nemesis come Terraforming Mars ma diciamo restituire tanto in termini di esperienza la cosa che ecco che mi ha mi fa un po' mi lascia un po' perplesso e lo vedrò insomma lo proverò perché mi arriverà giorni avevo fatto un pre-order già prima dell'uscita è questo discorso che dicevate ecco della del fatto di avere carte che poi non servono a niente questo mi lascia un pochino più perplesso perché alla fine anche Terraforming Mars è un gioco che si basa sulle carte però le carte comunque passano frullano rapidamente si trova sempre una carta si riesce a giocare poi sul discorso della partenza lenta è ce l'aveva anche Terraforming Mars un po' questo difetto inizialmente poi è arrivato Prelude è arrivato ma qua io rispetto a Terraforming Mars cioè stiamo parlando ancora più lenta perché a me Terraforming Mars con Prelude c'è di più ma non è così lenta ecco ok cioè qua è proprio cioè devastantemente lenta preoccupato e ripeto quello che mi sono chiesto io che poi io per carità io non sono un super germanofono quindi ci sta che poi a te piace Andrea eccetera però quello che mi sono chiesto è ma cioè perché non ho fatto giusto come dice Davide tre mazzi di carte in modo che all'inizio comunque ci sia più un delle carte che più mi vengono meglio io ad un certo punto avevo altri animali che non potevo giocare avevo tipo quattro animali anche forti che ero riuscito anche a farmi una piccola combo per il quale riuscivo a avere le monete con gli sconti eccetera ma non le potevo giocare perché me ne servivano altre prima altre che non potevo giocare perché dovevo costruire le rocce ma non potevo non potevo mettere le rocce perché mi mancavano delle altre carte che mi facevano mettere le rocce cioè ero incartato io continuavo a pescare carte ci ho fatto quattro o cinque turni dove pescavo carte perché non riuscivo a fare nient'altro il mio lavoratore era bloccato non potevo fare quell'azione e ho detto ma perché cioè se sono sfortunato è possibile che non ci sia un modo per togliermi tutte le carte dice è mitigato che le puoi prendere dalla vetrina ce ne sono cinque al centro puoi sempre prendere da lì ma chi mi dice che quelle cinque servono cioè sì certo eh vabbè guarda se facevano magari la soluzione come Underwater Cities di Sushi che abbiamo già nominato all'inizio puntata in Underwater ci sono tre mazzi della prima era seconda era terza era tutti i giochi tutti i giochi ormai ci hanno 1-2 1-2-3 come progressione ecco quello secondo me avrebbe già dato un miglioramento grosso e poi anche comunque il fatto che la partenza sia così lenta cioè boh ma col mazzo così secondo me l'acceleravi un sacco la partenza beh certo certo perché comunque con le carte del mazzo 1 ti aiuta comincio a creare un motore con o sbloccare determinate abilità eccetera eccetera comunque poi sono prime impressioni sono prime impressioni di una partita abbiamo fatto risparmiare più di 200 euro i nostri ascoltatori ecco tra Oth e Arkanova abbiamo smontato due mega giochi che stanno andando fortissimo quindi non è che è un brutto gioco non si può dire che è un brutto gioco Andrea diciamo che che l'aspettativa era comunque di un certo livello certo beh anche perché è uscito quattordicesimo su BGG ammazza cioè uno si aspetta chiaramente un gran bel gioco settima posizione giochi di strategia e poi anche brutto se vogliamo dire brutto cioè le plancette non so Davide te ma ma no io sono brutto non concordo sembra un altro di figurine anni 80 secondo me anni 90 dai allora stile Terraforming Mars come io sul brutto non è che concordi proprio con Luca è normale cioè è normale cioè vabbè brutto nel senso anche lì non è non è ecco non è una una roba deluxe ecco diciamo che la gente passava davanti allo stand Little Rocket Game vedeva Creature Comfort è chiaro diceva guarda questo giochino che bello che è così ok non era così però ricordate le figurine che davano all'uscita alla scuola degli animali quando eravamo agli elementari sembra sembra quello diciamo che non verrà ricordato per la componentistica ecco c'è una componentistica normale che funziona ma dai magari poi fanno la big box come fanno con gli altri cioè come poi il titolo di successo poi fanno la big box tutto tutto pimpato ripeto prima di andarmene prima di andarmene voglio anche demolire Creature Comfort così almeno finiamo qua in bellezza così è giusto perché Luca deve durare la sua delusione quindi no anche lì no allora il gioco mi è piaciuto tantissimo in realtà come piazzamento lavoratori la meccanica del dado eccetera eccetera però ragazzi cioè quello lì ha un problema fondamentale che è il tempo di downtime che è eterno eterno cioè abbiamo giocato appunto con della gente che non ci aveva mai giocato cioè ci voleva 25 abbiamo fatto 4 turni ci avevamo messo un'ora cioè prima giocavi una volta ogni 15 minuti cioè che io ci mettevo 40 secondi a fare il mio turno credo ma ecco il fatto di dover prendere i dadi che alcuni sono tuoi alcuni sono comuni li puoi usare solo uno li devi spostare quelli comuni poi li devi mettere eccetera cioè ti impedisce quasi di giocare in parallelo che si potrebbe tranquillamente fare se avessi un minimo di io giocavo subito ma gli altri non ce la facevano non ce la facevano e questo è proprio un difetto clamoroso per un gioco che è come quello che è per gente per giocatori comunque che stanno iniziando il piazzamento lavoratore io creature comfort lo vedo come un introduttivo al piazzamento lavoratore perché comunque non è pesante è leggero secondo me come peso e poi c'è sta cosa qua che è difficilissima che ti fa venire che ti fa durare una partita due ore no no cioè qui dovrebbero trovare una soluzione a questo problema qua e qua siamo su un'altra scatola bugialla perché sulla scatola c'è scritto 45-60 minuti ma proprio no cioè è un gioco che dovrebbe durare così e dura così e dura se tu avessi dadi solo tuoi per assurdo durerebbe così e questa meccanica dei dadi comuni che è bella perché tu devi mettere i lavoratori prima di sapere cosa uscirà no devi fare una scommessa questa è la figata di quel gioco però poi diventa difficile risolverlo cioè quello è un gioco che se tu lo giocassi cosa ne so su board game arena se lo facessero mai veramente ti dura 40 minuti ma al tavolo ti dura 2 ore e quindi questa cosa qua mi ha un po' infastidito quindi stiamo arrivati a farvi risparmiare 200 euro giusto? di più di più di più abbiamo detto tra tutti ebbè abbiamo detto 130 con te 70 70 80 75 80 facciamo presto siamo già oltre 200 solo con quei due ci aggiungiamo anche creator comfort no saranno 90 qualcosa del genere quindi 250 dai 250 risparmiati però mi è spiaciuto perché poi il gioco merita però c'è sto downtime è folle ho letto che alcuni hanno aggiunto dei dadi e poi cosa fanno tirano i dadi diciamo comuni poi prendono i loro questi start aggiuntivi e li settano come quelli comuni a quel punto hanno tutti i dadi e riescono a metterli quasi contemporanei a parte per risolvere soltanto dove si comprano le carte che lì bisogna andare in ordine e già così secondo me recuperi un'ora di gioco comunque tutto in silenzio dopo questa cosa ci hai messo tristezza perché l'hai quegli animaletti simpatici l'hai demolito l'hai no l'hai demolito ho solo parlato di questo downtime poi il gioco mi è piaciuto a parte quello mi è piaciuto ma comunque l'avrei demolito se l'avessi provato probabilmente l'avrei demolito perché odio io sta roba pucciosissima io abborro queste ambientazioni dobbiamo farci assumere dalle case editrici che così gli elimiamo i difetti ma quindi tu scherzi ma com'è possibile che non si sono accorti che c'è un gioco che loro dicono 45 minuti dura due ore vabbè ma allora True Diegis ci ha scritto 120 più 120 più vuol dire 120 più vuol dire più di due ore vuol dire 45 e 60 vuol dire tra i 45 e i 60 120 più ma 120 quando vabbè ma dai Luca veramente True Diegis comunque ragazzi come editori non valiamo niente perché Haught stravenderà Ark Nova vabbè un esplà un esplà pauroso e Creature Comfort sono convinto che stravenderà perché c'ha tutte le carte in regola quindi non valiamo niente ma no no ma figurati guarda anche io sono dalla tua parte cioè io addirittura ho venduto a Davide Everdell perché proprio per me è no eppure stravende a 200 espansioni eccetera noi capiremo un cazzo anche avete ragione però io Luca io e Davide cosa avevamo detto che i giochi che ci erano piaciuti di più erano Cascadia e Living Forest che tanto sono stati nominati allo Spiel e al Canary Spiel e secondo me potrebbero anche vincere quindi qualcosina forse ne capiamo vabbè anche io nella puntata dei primi ludici mi ero sbilanciato e aveva vinto effettivamente cos'era più il gioco avevano detto del gioco dell'anno e ci avevo indovinato sì sì ma tu io questi qua io e Davide cioè all'uscita l'abbiamo detto i classi classi nei giochi della Madonna e poi tu anche lì aveva appena usciti e ho detto oh raga sono uscite nelle nomination io dico questo non uscite le nomination cioè noi quando sono usciti i giochi no no è vero è vero me lo ricordo anch'io beh ma con Cascadi era facile quindi onestamente comunque Creator Comfort ha fatto 500 e più mila dollari su Kickstarter quindi che abbiamo fatto non è un brutto gioco però c'ha quel difetto lì se trovassero il modo di risolverlo secondo me poi forse è anche più bello di Everden gli diamo il tuo numero Luca datelo ok allora quindi avete altri aneddoti interessanti divertenti cioè non so Luca qualcuno ti ha fermato per strada dicendolo io ho questo aneddoto divertente non so se avete seguito le mie in fiera le mie cavolate che ho fatto ho fatto cantare giullari si silvia dice gioco amici di giula anche Mario Cortese ho fatto cantare tutti ma soprattutto andavo in giro con questo cartello giustizia per Luca Ciglione perché mi hanno fatto un grave sgarbo durante una live da John Dice TV e a un certo punto arrivano dei cosplayer che fanno una sfilata all'improvviso questi qua dal niente arrivano con la musica a palla e fanno una sfilata e io ho detto fammi prendere cartello e mi sono unito a questa sfilata e va bene tu devi dire sei scemo tanto mentre erano nella sfilata uno si gira e ci va ma che è sto qua ma che hai invitato ma certo non è questa la cosa divertente ho fatto la sfilata Davide mi ha fatto il filmino l'abbiamo messo adesso arriva la parte divertente la mattina dopo domenica mattina andiamo allo stand di Fever che Davide doveva giocare appunto one small step eccetera e l'editore fa vede il nome e sulla maglietta fa ah ma sei tu Luca Ciglione ma io ieri ho visto uno con un cartello che ho scritto giustizia per Luca Ciglione e ho passato tutta la sera su internet a cercare di trovare la motivazione di sta cosa qua e non lo trovavo cioè qual è? se io glielo ho spiegato ho visto la delusione nei suoi occhi lui pensava su una battaglia di civiltà si stavano andando a fare esatto dovevi dire guarda sono un profugo sono arrivato col barcone e mi hanno fatto e io mi immagino sto qua che dopo che ha fatto dieci ore di fiera si mette lì su internet a cercare giustizia perché non sai cosa ha detto quando sei andato via ma guarda sto scemo immagino che sarai incavolato ho perso ore della mia vita per sto deficiente però già quando mi ha raccontato vuole lacrima agli occhi perché beh ci credo va bene guarda mentre tu raccontavi questo aneddoto divertente si è unito a noi anche il buon Kogo ciao ciao ragazzi ok allora diamogli subito alla linea per il TG vai vai Kogo lo sapevo io stasera niente TG come niente diamogli la linea per dirci cosa gli è piaciuto di più a Luca anche a lui a Luca a Modena anche a lui dai Andre un top e un flop abbiamo fatto anche noi allora il top sicuramente Trevicez è un grande parla velocissimo è stato veramente faticoso stargli dietro con l'inglese però però è un grande cioè ha descritto i tre giochi di Portal che arriveranno con Pendagron niente li descriveva come se fossero figli suoi davvero e flop forse devo dire la verità non mi è piaciuto tanto lo stand di Giochi Uniti è sempre uguale negli ultimi dieci anni non hanno cambiato niente forse le scatole e neanche tutte e di giochi Andre? come giochi allora di quelli provati di quelli provati proprio sul campo mi è piaciuto One Small Step e anche Shards of Infinity per carità niente che faccia gridare al miracolo però due bei giochi nella loro fascia nel loro mercato di riferimento un gradino sotto ma comunque molto divertente anche perciò in puzzoni e invece come flop come flop proprio flop flop da dire oh vabbè delusioni perché magari è ricarico da aspettative altissime poi tradita forse Creature Comfort non non mi ha fatto tutta questa impressione ecco oh per il downtime per il downtime tra i giocatori diciamo che per il pubblico a cui si rivolge non è così immediato e quindi costringe costringe a pensare certo se lo giochi con quattro giocatori fila via abbastanza liscio però probabilmente quattro giocatori alla fine non si mettono a spendere un'ora del loro tempo su quel gioco lì ce ne sono di più soddisfacenti anche stando attorno all'ora e non ci siamo messi d'accordo ve lo giuro incredibile non ne avevamo parlato prima hai detto le stesse cose Luca eh più o meno le hai detto un pochino più in tono infervorato beh ma lui è così abbiamo la sfumatura di di tutto io adesso voglio parlare comunque ancora di cose in particolare voglio parlare del nuovo The Crew e c'è un silenzio di cala il silenzio io perché non l'ho neanche visto era fuori dal mio radio no il nuovo The Crew che non è The Crew ovviamente ma è Jacky Dandai ah ok ok che che di nuovo si basa su un meccanismo di prese proprio similbriscola con la briscola che cambia dinamicamente a seconda dell'ordine delle carte giocate quindi la prima carta che giochi era più debole poi i colori che giochi successivamente sono i più forti sono tre colori dove appunto è asimmetrico nel senso che Jacky deve fare un numero pari di prese mentre Hyde deve cercare di fare più punti tanto quanto più le prese divergono quindi con un massimo di 10 a 0 farebbe 20 punti e bombe c'è di nuovo io ho fatto Hyde è praticamente molto più difficile vincere rispetto a Jacky perché ovviamente le prese casualmente se tu stai cercando di vincere di prenderle tutte prima o poi qualcuna non la prendi e quindi l'altro oppure ne prende una e l'altra te la fa prendere apposta è molto più facile giocare in due sensi piuttosto che uno solo per trovare la mediana e quindi sì niente in più ci sono delle cose tipo che a un certo punto ti scambi le carte quindi anche se avevi fatto una strategia rimandi lì io l'avevo preso tutto per prendere tutto adesso tu mi rubi le carte e quindi niente non mi ha convinto per niente a parte che è un clone di The Cru e anche il signor Gianfranco si è arrabbiato niente niente siete stimositi da queste mie parole ma sì anche perché secondo me l'hai provato solo tu ah sicuramente come l'hai provato da solo cioè proverai in una fiera a nessun altro in tutta la fiera in tutta la fiera e c'è l'ho nessun altro un altro gioco che mi ha lasciato veramente ma è Tiscons and Arsenic di Olifante dove praticamente devi prendere dei biscotti e nei biscotti dietro ci può essere due o tre boccette di veleno tu prendi un biscotto e lo metti nel tuo diciamo nella tua plancia di te poi ne prendi un altro poi ne prendi un altro e l'unica cosa che puoi fare è per tre volte scartare il biscotto usando una delle tue zollette primo che arriva a 15 perde fine ma forse hanno voluto provare a abissare il successo di espresso doppio però forse non ci sono però no no cioè espresso doppio è un gran gioco adesso dobbiamo un gran gioco comunque ragazzi probabilmente voi non ci siete stati o ci avete passato poco tempo ma nella tensostruttura quella dedicata ai più piccoli c'era uno stand anche abbastanza grande vicino a quello dell'Asbro dove c'erano dei dimostratori anche molto bravi ad attirare la gente e mentre passavo con mia figlia ci hanno catturato e ci hanno proposto Genial Memory Genial Memory che altro non è che è un Memory con 72 tessere e con delle immagini di animali con 3-4 piccoli piccole trovate diciamo così per cui ci sono alcuni animali che non sono semplicemente in coppia ma sono in 3 o addirittura in 4 quindi dovete fare tris o poker e un altro paio di tessere che non fanno altro che scambiare i due mazzi di tessere già raccolte tra i due o i più giocatori ecco non so sono rimasto un po' così anche per quello perché insomma un Memory che occupava tutto questo spazio e uno solo quel gioco lì e lo proponevano a 20 euro o meglio a 19,99 adesso non c'era un IP non c'era niente dietro ok confezione di metallo tesserine di cartone abbastanza abbastanza belle però insomma sempre un Memory rimane era la versione per bambini di Ark Nova fondamentalmente mi sa va bene dai comunque a quanto mi sembra di aver capito c'è stata una Modena che è tornata finalmente ricca forte con un sacco di di novità ma non solo anche di tavoli per giocare perché fondamentalmente poi è questo la cosa più importante tornare ma leggendo ora più di 40.000 presenze no non male per niente quindi assolutamente è stato un successo quindi bene bene io sono contento che voi siate riusciti ad andare a partecipare a dire a fare una sorta anche di non dico live streaming perché quello non ci siamo ancora ma avete sfruttato per bene il canale Telegram e quindi come anche detto qualcuno nel nostro gruppo Telegram sembrava quasi di essere lì quindi io vi ringrazio anche da parte dei nostri ascoltatori per tutto quello che avete fatto e ovviamente vi ringrazio per questa puntata per tutto questo tempo che mi mi barra c avete dedicato con tutte le analisi post play io vi saluto non vedo da ritornare al podcast spero di tornare più presto possibile guarda lo sai che i microfoni qua sono sempre accesi e sei sempre benvenuto vi saluto anche io e finalmente non ho fatto solo da spalla perché qua le matte mi vogliono solo come palla e tappabuchi ma non è vero dai è stata una bella puntata corale sì sì anch'io mi dispiace di essere arrivato solo all'ultima però niente vi saluto e spero di tornare presto a play ah pensavo col TG vabbè dai finisco finisco io che sono stato la star indiscussa della fiera e ti hanno anche cercato per ore su internet dicendo ma chi è cosa è successo e niente volevo comunque ringraziare i tre che mi hanno fermato per fare la foto a play che non sono abituato ma già la seconda volta che mi capita mi è capitata una persona a Parma di DG e ben tre questa volta a play quindi mi sto iniziando ad abituare alla celebrità mi raccomando continuate a seguirci su tutti i nostri canali appunto per rimanere sempre aggiornati in fiera abbiamo appunto fatto tantissimo su Telegram ma anche tanto su Instagram comprese delle dirette ad esempio la partita di Iroquest è andata in diretta proprio in live streaming su Instagram quindi se ancora non ci seguite anche lì iscrivetevi e poi da questa settimana abbiamo anche fatto del canale su TikTok quindi lì dove faremo probabilmente i video stupidi sempre più giovani sempre più stupidi se volete vedere me che faccio in particolare i video stupidi ma cercherò di coinvolgere anche gli altri ragazzi iscrivetevi anche lì su TikTok va bene va bene e ovviamente non dimentichiamoci del sito giochi sul nostro tavolo punto it ok allora direi che per questa puntata è tutto e io ancora appunto vi ringrazio tutti voi ma anche Simone Valeria che comunque hanno fatto parte del team di Modena esatto e io spero anche che il prossimo anno di essere presente anch'io così facciamo proprio delle delle belle dirette anche da poi inserire nel podcast magari intervistando qualcuno che voi avete lanciato il sondaggio ma poi non avevo intervistato nessuno abbiamo avuto questi due problemi uno che è cortese era completamente senza voce che ci aveva promesso ma non riusciva a parlare allora era l'intervista più bella tu facevi le domande e Barbara Roll che è svenuta e l'hanno portata via solo perché tu gli avevi detto guarda facciamo un'intervista no sto male e se effetto fao l'intervista di Luca Ciglione va bene va bene ci sta ci sta ok dai allora ancora grazie a tutti sia agli ascoltatori per averci ascoltato fino in fondo e a voi per aver partecipato grazie da matti ciao 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 alla prossima giochi sul nostro podcast il podcast ludico avete ascoltato giochi sul nostro podcast grazie a tutti